Uomini e donne, Anna contro il programma, il post sospetto della dama. Anna Tedesco contro uomini e donne, la dedica alla sorella su Instagram, che agli utenti sembra una frecciatina alla trasmissione, nelle puntate di uomini e donne dedicate al trono ovvero ultimamente Anna Tedesco è stata spesso tirata in causa dai partecipanti alla trasmissione. Ad essere messo in dubbio questa volta è stato il rapporto, che la lega a Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, i due hanno davvero una relazione segreta o la loro è solo amicizia? Le continue discussioni in studio hanno anche portato Giorgio e Anna a scontrarsi, tanto che quest'ultima è arrivata addirittura a mettere in dubbio le buone intenzioni del cavaliere. La colpa di quest'ultimo sarebbe, nello specifico, quella di non aver preso le sue difese, fino a far insinuare il dubbio nella mente di chi li ascoltava. Anna ha anche manifestato in più occasioni l'intenzione di voler abbandonare il programma, il motivo, la trasmissione di Maria De Filippi non le sembra più il posto adatto dove trovare l'amore. Qualche ora fa, inoltre, la stessa ha condiviso sui social un post dedicato alla sorella e alla sua famiglia che, secondo molti, non farebbe altro che confermare la sua opinione su uomini e donne. Perché qui c'è ancora verità, è qui che c'è ancora semplicità ha scritto sotto una foto caricata su Instagram è qui che c'è amore, quello vero, insieme alla tua famiglia. Ma a chi sono rivolte le sue parole? Tanti quelli convinti del fatto che si riferisca alla sua esperienza negli studi di cinecittà. Anna Tedesco e Giorgio Manetti stanno insieme, le perplessità di Gianni Sperti il primo a non credere molto alla versione dei fatti data da Anna è stato Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e Donne. Le parole della mamma infatti non lo avrebbero convinto fin dal primo momento, tant'è che è stato lui stesso a proporre in puntata di visionare i messaggi, che lei e Giorgio si sarebbero scambiati negli ultimi tempi. Dal controllo del telefono è emersa una corrispondenza costante e continua che, a Gianni in particolar modo, ha fatto pensare che tra Anna e Giorgio ci fosse altro. Quali saranno adesso gli sviluppi? Questo lo scopriremo presto, probabilmente nella prossima registrazione del trono vero. Grazie a tutti.